Ciao ragazzi, sono Floriana Nevetta e sono una studentessa della Medical University di Pleven. Ho deciso di intraprendere questa esperienza per poter realizzare il mio sogno, ovvero quello di studiare medicina. È un'esperienza che mi è stata negata in Italia e che ho potuto trovare qui in Bulgaria. I professori sono disponibili a ogni nostra esigenza e le lezioni sono interamente in lingua inglese. Vi aspetto!